Ma che ooooh! Chiudite la porta lì per favore va la Verso di qua Quindi raggiungiamo Il tipo che è qua A cat bardo Per cazzo sia il tipo? Dove c'è il tipo? Per cazzo è? Die c'è qua ma non c'è nessuno Eh sarà che magari dobbiamo ascoltare Ah eccolo eccolo Che stava parlando Come si chiama? Daluk Cos'è successo qui? L'oscurità si diffonde Dice di essere un oradrim A beve come un bue E' il portale E' arrivato giorni fa In genera di un servo del demone Lilith Un uomo pallido Mi sa che non gli è piaciuto ciò che ha trovato Capisco Ora me ne occuperò io Tu chi sei? Ho incontrato Sulle vette frantumate Ho visto il suo uomo pallido In una visione Sulle vette frantumate vedi Bene E' tutto tuo State lontani dalla bottiglia voi due Stati lontani dalla bottiglia Perché scusa E qua parla quello Ah l'oratus è il tipo il beccio no? L'oratus è qui che non salva al culo Possiamo andare a Possiamo mettere a casa sua all'inizio Ricordi che ti entri in carbona Cosa è qui che ne va portà A chi ho lasciato la prima volta Che dopo non è che aveva stato col cavallo Mi interagisco Ah interagisco C'è il filmato E' il secchio da L'oratus Per tutti i diavoli Che cosa vuoi? Mi hai detto tu di incontrarci qui l'oratus Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo Mi stupisce che tu non sia morto Passami la bottiglia Che bottiglia? Cosa ti è successo? Sono stato aggredito evidentemente Da diversi litri di alcol Versati dalla mia stessa mano Ma potrei anche essermi azzuffato con una capra Per questa pozza di fango Mi piace pensare di aver vinto Loro Chi è l'uomo pallido? L'uomo pallido è Era Un oradrim Oradrim Allora Che è quello che l'ha evocata Esatto Pensavo di conoscerlo Si chiama Elias Era il mio apprendista E' stato lui a portare Lilith A Sanctuarium E' possibile che io non abbia preso bene la notizia Quindi cosa dobbiamo fare? Trovarlo Scoprire cosa ha fatto E poi ucciderlo Bene Ascolta C'è una donna qui da qualche parte Ha dei messaggi che ci servono e Io in questo momento sono inutile Ma si è tronca duro Io il filmato l'ho finito A te? Adesso Dice Parla con te Ok Di parlare Teclin Teclin Ma stai ero di Orbei Orbei No Nessuna notizia da Orbei Come ieri e come il giorno prima Ma C'è dell'altro Con la voce che un uomo pallido Si è passato per le gole di Abaru tempo fa Un tipo funesto Vestito di nero Dopo lo spettacolo di ieri sera Scommetto che l'Orat vorrà saperlo Ok Avete fatto una da l'Orat Che d'un coglione Mai fa posta Penso che tira un schiaffone Poi gioco ma per il caso Esatto Che tira un schiaffone adesso l'Orat Visto che so piccola Se muore si dismiscia tutto su un colpo Esatto Allora Tec non aveva notizia mai Aspetta però ci sono altre due robe Sono testimone del male di Lilith a Shosgren No io ho messo la prima La principale Ok Strano Ho scritto al monastero di Orbay il giorno in cui sono arrivato L'abate dovrebbe aver risposto ormai Beh in poca prova bisogna andare a trovare questo uomo pallido Ah si esatto Elias Che è quello che ha evocato Lilith è vero? Beh A lui Potevi dirlo prima Dobbiamo andare subito Dobbiamo andare subito Ma non possiamo tralasciare Sì bisogna andare alla gola o al monastero Mi aspetta un attimo Io sto ancora guardando Mi trovi lì o al monastero Finora ti sei dimostrato affidabile Non deludermi Beh meglio Dio Si che sei un embriago duro Allora anche se un sacco di altre domande Cosa ti serve dal monastero di Orbay Perché Eilas ha evocato Lilith Sono testimone del Allora io gli domanderei Perché Eilas ha evocato Lilith Tanto per capire Volevi dire è pazzo? Eilas era un mago eccezionale Avrebbe attraversato le fiamme stesse In cerca della verità Spesso trovandola Qualunque verità abbia trovato in Lilith Solo lui è in grado di spiegarla Ok cercava la verità sulle cose Poi cosa ti serve dal monastero di Orbay Ok vedevo cosa bisogna Sono testimone del male di Lilith Questa non si serve Le viti sono due volte Ok ho ascoltato anche quella Poi sono testimone del male di Lilith No Donan Quello stolto non poteva immaginare Che Lilith avrebbe cercato Astaroth Men che mai che gli avrebbe offerto il suo figlio Ah gli ha raccontato di Astaroth Cosa ha ottenuto in cambio Astaroth proviene dal regno dell'odio Come lei Forse qualcosa lo aspetta a casa Ok qualcosa Si sia messo d'accordo con Astaroth Per avere qualcosa Porto notizie dalle vette frontumate La stupidità di Narius Non cessa mai di stupire Se non avesse ucciso Ratma Avremmo potuto fermare Lilith Ma ora Ecco Dice che Narius ha sbagliato A uccidere suo figlio Ratma Che forse tramite Ratma Si poteva bloccare Lilith Ma ormai non si può fare più cazzo Avevo finito di parlare col coglione Cosa bisogna fare? Allora ascoltami adesso ci sono due principali Allora Cioè O andiamo a Per perdere il senno O inquietudine Alla gola O al monastero di Orbei Incontra l'orata nella gola di Abalu Oppure Raggiungi il monastero di Orbei Per parlare con l'abate Io farei questo Andrei dall'abate Andiamo alla gola Prima Anche perchè siamo appena stati a parlare con lui Che cazzo ci parliamo di nuovo la? Andremo dopo la Vuoi andare al monastero di Orbei? Si andiamo al monastero Io ho messo il monastero Chiese dove questo monastero Ah è l'abice vicino? No Ok basta mettere che È più distante però Il monastero della gola Si o no? Eh si Ah vabbè ma no Beh andiamo alla gola È più vicino Dai che due coglioni però E ora mi tocca cambiare Per perdere il senno Allora facciamo Eh si Facciamo perdere il senno È più vicino No Guardando un nuovo cacolo Ah Questa who Che sta andando? Che sta andando? Che sta andando? Che sta andando? Sì Ho pensato se fosse fosse... Ah pensavo se fosse fosse... No Attenzione il portale ciliano di torno si chiuderà quando lascerai la città Eccoci qua adesso attaccherai 200.000 mostri Ingresso la colta di qua, uccidi vampiri capeotti vari Non interessa un cassa Eccolo qua siamo arrivati Ah ma non c'era da parlare questo qua Cos'è il esperto? Ok dice di stargli vicino Cerca Elias nella gola di Abaru con l'Aurat Dove c'è sta gola? Ah là Ok come sa Esatto Andiamo dai Spera i mostri Non ho abbastanza spirito Ah mi è messo in cassa Ah Non so di che sta tanto crocante Oddio per sempre Dove sei? Sennò non viene ancora lì Ma se tu che devi stare dove sta io Io vado avanti campionato Non so di che Bisogna andare qua GEMBAR GEMBAR No Ok 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 Questo è su questo cerchio qua Arrivano attraverso un barco infernale E basta non per quale Mi serve più spirito Fin troppo facile Questi demoni erano spazzatura Mi aspettavo di più Sì pieni del sangue Esaminiamo la casa Esaminiamo la casa Anche i vestiti si è pieni del sangue Ho fatto patate dei monstri Una gemma Oggetto di a merda Mi metto morto oggetto di a merda Beh vado Vai si del cazzo Vado Vado Ok Qua è spezzata la casa Fai attenzione Elias potrebbe essere ancora nei paraggi E di cosa riesci a trovare? Cosa dice qua? Pergamene di incantesimi Per evocare demoni minori Di disegni ritraggono i demoni A quattro zampe nelle grone Le grone esatto Cosa ti serve? La strada che qua l'avevo già fatto Ma guarda scritti i resti di una bella statua di piede Da qua cosa che hai Sì Una statua di detiti Intagliata da mani esperte Ricoperta di sangue viscione Schifo Ma non c'è altro quello Ma no ma dice che c'è qualcosa qua Aiuta l'orat a cercare indizi nella Il resto di una bella statua di pietra Manca Forse manca qua Manca quel po' Perché non lo voglio guardare Forse Questo Ah eccolo qua Alliva Maestro Elias ha bussato alla mia porta Non ho trovato le parole giuste Per cui gli ho mostrato le incisioni Che razza di disastro Ok Parla Parla con l'orat Dove cazzo sei andato? Dea Va Ecco cosa sono scoperto Troppo tardi Elias se n'è già andato L'evocatore è questo Gambar Come fai a dirlo? Non è ovvio Elias trova Gambar solo Senza amici e pieno di rabbia Così se lo rigira a suo piacimento Gli offre l'amore di Lilith E un ruolo nella sua follia E poi gli dai mezzi Per esprimere la sua rabbia Perché a me ne è di vocazione Molto perspicace Chissà per quanto Gambar Si è crociolato in questa follia Speriamo di potergli fare ancora qualche domanda Trova Gambar Dovebbiamo andare per trovare Gambar solo Ah dalla sopra la che non si faceva andare Ti ricordi Da che parte se va? Non si può andare fuori Per forza di qua Dove ti va? No dove ti va? Tranindri Ah non si può andare fuori Ah Quindi si è aperta la porta di qua? Eh si Ah c'era la porta di merda E chi lo sapeva? La porta Questo che aveva tutto quanto Un passaggio Ah indesero Senti Senti Povero idiota Chi si è saldo? Prego a prendere un attimo E' bello che siamo in questa forma qua Non potevo fare niente Ok si è finita Un altro qua Un altro lì Tu scuole Sarà da fare Bello cazzo però No dite te per la foglia Qua Interagisci con Gambar 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 Vi manda il maestro Elias Il maestro Elias Beh si E' così La nostra E' una missione Molto importante Abbiamo una cosa Per il maestro Ma pensavamo fosse con te Sai dove si trova? Bugiardo Schifo Che cazzo Sono bene Chi è che è il bugga? Ho poco spirito Che cazzo Ma pensavamo Che cazzo E' una missione Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo E' una missione Che cazzo Ma lo so E' un regalo per te Ho un regalo per te Va beh il c***o? Che cosa vuoi fare? Il c***o? La mia vita è da demone Ma io che si chiama questo qua? Mammo perchè sono in divano di stampa di tv io non vedo bene a non lo so non la voce varie sulle non ho abbastanza spirito no non abbiamo tanto devastato devastato ma perché siamo di livello croccantato dovevamo devastato dobbiamo arrivare prima no la cosa accadrà prima le brutte notizie Gembar aspettava qualcuno Elias deve aver convinto altri della sua follia ha insegnato anche a loro come evocare scommetto, hai sentito Gembar il maestro ha tutto il necessario faranno qualcosa di estremo e la buona notizia Elias ci ha dato un dono ricordi questo demone che ha mandato a ucciderci è unico va nutrito costantemente con sacrifici umani bene se lo sventrassi qualcuno all'interno potrebbe darci un indizio sulla sua origine dovrò farlo portare a casa per esaminarlo dai quanta ignoranza questi sbattigli fastidiosi bisogna andare al monastero di Orbei credo coglioni quindi alla fine si ritorna inquietante e sofferente bisogna fare raggiungi il monastero di Orbei per parlare con l'abate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti